Mio cugino Marco è un tipo un po' sessantottino e quindi gli piace consumare cibi poveri, appunto la polenta e pescò i pesci nel fiume per cucinarli con le sue mani. Questi pesci erano immangiabili e qualche cosa si è persa effettivamente. Sono il tevere di Roma, sono un colosso, sono bello, biondo e vengo da lontano. Vado superbo con la lupa in mano, arrivo a Roma e mi picciano addosso. Certo è strano questo tevere, sembra che non ci sia posto per i pedoni, muraglioni, ponti previsti soltanto per le auto, solo in Barcarolo che va contro Corrente se lo può godere, no? Certo, è l'unico posto libero che è rimasto a Roma. Per i Barcaroli? Per i Barcaroli, ma non per i Romani. Eh no, non per i Romani, se fosse passato il progetto di Garibaldi che fu bocciato dalla Camera per un solo voto di scarto. Ma comunque sarebbe, penso, sarebbe stato la stessa cosa. No, lui non c'erano i muraglioni, c'erano un sistema di scolmatori a Monte della Niene. Eh, certo, Garibaldi ci avrebbe salvato dai muraglioni del Vescovali, ma dalle fogne chi ci avrebbe salvato?